Ciao a tutti, siamo in volo, in quella nostra pianura, in crisi anche lei, la nostra vecchia pianura padana, qua stiamo sempre andando al paese di queste altre storie, ma se l'è un po' l'apio, e bisogna buttare questa sicurezza, che sono un po' la prospettazione, che è un po' la prospettazione che è un po' la prospettazione, che è un po' la prospettazione, che è un po' la prospettazione quando incontrò messo il posto, il dia 61 o sei 9, quasi 10, ma è 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 10 C'è un po' la prospettazione, che è un po' la prospettazione, che è un po' la prospettazione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.